Oggi proviamo a riassumere le linee guida nazionali e internazionali per avere una panoramica il più possibile completa sulla prevenzione, l'ispezione e la disinfestazione delle cimici dei letti. Negli ultimi mesi si sta sempre parlando dell'infestazione di questi animali a causa dell'aumento dei casi soprattutto in Francia e il Regno Unito. Nel caso della Francia si stima che tra il 2017 e il 2022 l'11% delle case abbiano avuto delle infestazioni, eppure non è facile, senza dei dati precisi nei vari paesi, capire esattamente la portata del fenomeno. È comunque chiaro che a livello internazionale stiano crescendo progressivamente i casi e questo si imputa a diversi fenomeni. Da una parte al fatto che sono stati vietati alcuni insetticidi, come il DDT, al fatto che si sono sviluppate delle cimici resistenti a quelli impiegati e all'aumento dei viaggi internazionali. Contate che questa infestazione era quasi stata debellata in passato e solo negli ultimi decenni è tornata a crescere e per questo, per esempio, la letteratura scientifica è abbastanza giovane. Ora si sta producendo molta letteratura scientifica su questo. Nei decenni passati se ne produceva molto meno. Guardate questo grafico, come si vede l'aumento di pubblicazioni su questo tema. Quindi capite, c'è un certo grado di incertezza, ma qualcosa di sensato si può dire e qualcosa di concreto si può fare. Ma già che stiamo parlando di viaggi internazionali, non posso che parlarvi dello sponsor di questo video, che è Cambly, che ovviamente vi permette di viaggiare bene, in modo sicuro, perché se sapete l'inglese, chiaramente potete viaggiare di più. Che poi magari veramente l'inglese vi aiuta anche a combattere le cimici eletti, magari vi trovate in un hotel, volete chiedere di cambiare camera, perché avete il sospetto di avere le cimici in quella camera, come fate, come lo spiegate, come dite, ah guarda ho le bad bugs, cosa posso fare, come posso cambiare, guarda queste sono delle uova. Eh, voglio vederevi spiegarle in inglese. Per chi non lo sapesse, Cambly è una piattaforma che vi permette di fare delle lezioni di parlare, di speaking, con dei tutor madrelingua inglesi. Questo è particolarmente comodo perché serve soprattutto a sciogliervi, a rendervi delle persone che riescono a parlare fluentemente in modo tranquillo l'inglese. Il mio tutor si chiama Mike e ormai è da un sacco che lo faccio e mi sento più tranquillo. Ci si collega da remoto, da computer, da telefono, si può fare con il tutor singolo o anche in gruppo. Fidati di me, una, due ore a settimana e vedrai che fra un anno, nel 2025, l'inglese lo saprai parlare. Su se il mio codice, Entropy 2024, puoi avere uno sconto del 50% sui piani annuali che ti permette di partire da 5 euro a lezione. Oltretutto se vuoi puoi fare una prova di 30 minuti per un euro. Trovi tutte le informazioni sotto. C'è un aspetto fondamentale da cui partire, che riguarda le cimicelette, perché il principale problema non è prettamente di tipo medico, non è prettamente di tipo economico, è di tipo psicologico. Per questo motivo è fondamentale rimarcare quanto sia importante l'attitudine con cui si affronta questo problema. Sia che l'abbiate, sia che ve ne state preoccupando, sia che in realtà stiate guardando questo video. Tenetene conto. Infatti da una parte purtroppo c'è il problema di sviluppare dell'ipocondria, no? La preoccupazione di avere le cimicelette o di poterle prendere nella propria casa ovviamente colpisce una fetta delle persone che da questo video potrebbero essere preoccupate. Ecco, se avete questo tipo di paura cercate ovviamente di lavorarci da questo punto di vista. D'altro canto poi chi trovandosi a casa questi animali tende ad avere dei traumi, perché si tratta comunque di animali, insetti che a molte persone danno fastidio, che succhiano il sangue la notte, che è un momento fondamentale. Tipo, per me il sonno è fondamentale, ecco, immaginare di avere un altro fattore di disturbo in un certo senso non mi aiuterebbe. Però arriviamo al punto che appunto il danno principale può essere quello. Quindi l'attitudine con cui eventualmente si affronta questo tipo di problemi è fondamentale. In questo magari vi può aiutare sapere che in Francia due terzi delle persone che hanno questo problema lo risolvono nel giro di due mesi e non hanno neanche visto questo video. Quindi magari si alta la percentuale per voi. Quindi tenete conto della centralità, dell'aspetto psicologico anche mentre guardate questo video e d'altro canto sappiate che se trovate le cimicelette valutate di affrontarlo anche da quel punto di vista, magari appunto con degli specialisti. Secondariamente c'è l'aspetto economico, infatti in Francia si stimi che ogni caso di cimicelette costi intorno agli 800 euro per tutte le attività di gestione. È una cifra affrontabile della maggior parte delle persone e la cosa particolare però è che complessivamente questo sistema abbia un costo di 300 milioni e quindi si tratta di un problema collettivo che va affrontato collettivamente. Anche perché ogni volta che qualcuno riesce a debellarle ovviamente diminuisce le probabilità che poi queste si diffondano in altre famiglie. Quindi è un problema che va gestito con le giuste proporzioni senza sottovalutarlo, senza esagerare e adesso vediamo gli aspetti biologici minimi per capire questo animale per poterlo affrontare meglio. Ci sono diverse specie di cimicelette. Quella presente in Europa è Cimex lectularius e fino a poco tempo fa si pensava fosse l'unica però è da qualche anno che attraverso gli studi si è scoperto che in realtà è arrivata un'altra specie tropicale, Cimex emipterus. Questi insetti si nutrono esclusivamente di sangue, preferibilmente umano, tendenzialmente di notte. Siamo parlando di animali grandi qualche millimetro, quindi visibili ad occhio nudo, anche se ovviamente ci vuole l'impegno per vederli. Quando sono a digiuno tendono ad essere piatte e per questo sono particolarmente brava a nascondersi negli anfratti dei muri, del letto, di tutti gli anfratti possibili. Possono infatti nascondersi in realtà in qualsiasi luogo della camera e poi eventualmente salire attraverso i piedi del letto o i lenzuoli che toccano a terra. L'infestazione di cimiceletti non indica una mancanza di igiene e pulizia, non funziona così, potete avere la camera più pulita e ordinata del mondo e comunque siete a rischio. Al massimo l'ordine, più che la pulizia, può aiutare i cimici del letto a non farsi scoprire o aumentare le probabilità che voi possiate disperderle in qualche modo da una stanza all'altra o da una casa all'altra. Sono animali resistenti che possono rimanere a digiuno anche un anno, anche di più in ambienti freddi. Possono sviluppare resistenze ad alcuni insetticidi e anche ad altri trattamenti appositi. Come vedremo la lotta a questi animali si ottiene principalmente in due modi, evitando che arrivino al proprio letto e poi eliminandoli eventualmente, con metodi fisici per lo più. Nel luogo in cui è avvenuto il morso solitamente si vedono delle macchie rosse che generano un po' di prurito che è spesso associato a un po' di gonfiore. Spesso si parla di tre, quattro macchie o in linea o che fanno una curva. Si tratta spesso di più pasti che durante la notte ha fatto la cimice. Queste macchie possono comparire subito oppure anche giorni dopo il morso, anche dieci giorni dopo, ma c'è un fatto. Una fetta rilevante della popolazione invece tende a non sviluppare queste macchie, anche se poi in realtà può succedere che con il tempo invece questa cosa succeda. Perché poi negli individui che vengono morsi ripetutamente per più volte nel tempo si sviluppa magari una certa sensibilità. Però capite, c'è comunque questa cosa. I morsi non possono essere l'unico modo per capire se si ha le cimice retti a casa. Di per sé queste macchie non sono problematiche e si risolvono nel giro di una settimana. Non ci sono evidenze di trasmissione di malattie nei casi umani e questa è una cosa ottima anche se va detto in laboratorio si è visto qualcosa. Però appunto sono situazioni in laboratorio che non sono quelle della casa propria. Ad ogni modo in laboratorio si è vista la trasmissione della bartonella, del tripanosoma e dell'epatite B. I casi di reazioni allergiche. O di anemie dovuto al fatto che questi cimici magari succhiano enormi quantità di sangue sono rari. D'altra parte però la defecazione di grandi quantità di stamina che viene utilizzata come feromone dalle cimici retti può essere un fattore di rischio ambientale per gli esseri umani. Le infestazioni di grandi dimensioni sono più probabili in certi contesti socio-economici in cui soprattutto c'è un problema magari di costi per eradicare l'infestazione o per affrontare la questione. Non tanto perché c'è una maggiore o minore probabilità di infestarsi. È più un discorso di combattere poi l'infestazione. Quindi, preso a atto di tutto ciò, iniziamo a parlare della prevenzione. Partiamo dalle cose basilari. La cosa più importante per quanto riguarda la prevenzione è evitare di introdurre dentro casa propria le cimici attraverso degli oggetti. A tal proposito il bagaglio è tra i più probabili vettori per portare le cimici da un'abitazione a un'altra e pensate, si stima in Francia che circa il 40% delle infestazioni nascano perché si va in un albergo, perché si va in una casa per le vacanze. Quando si è fuori casa le valigie non andrebbero messe per terra. Andrebbero messe abbastanza distanti dai letti. L'ideale è un tavolino sgombro precedentemente ispezionato oppure anche un'altra stanza come potrebbe essere il bagno o persino dentro la vasca da bagno. Certo, voi non fate il bagno con la vostra valigia, chiaro. Lo stesso vale per altri oggetti, come i vestiti, che non andrebbero tenuti troppo fuori dalle valigie oppure al massimo andrebbero tenuti appesi in modo da evitare che le cimici possano nascondersi dentro, ecco. Un'ulteriore protezione, se magari temete maggiormente quel luogo, è la possibilità di mettere le valigie all'interno di sacchetti di plastica che poi ovviamente andrebbero lasciati lì, cioè non portati a casa. Una volta tornati a casa i bagagli non andrebbero portati dentro subito. L'ideale sarebbe ispezionarli e poi lasciarli in un ambiente in cui non si vive quotidianamente, come un garage o come una cantina. Queste attenzioni andrebbero poste anche per altri oggetti e in particolare per i vestiti di seconda mano. Si stima che circa il 20% delle infestazioni in Francia nascano così. Indumenti potenzialmente infetti possono essere messi in lavatrice a 60 gradi per 30 minuti e quelli invece che non possono essere lavati per esempio si possono mettere in asciugatrici alla temperatura massima sempre per 30 minuti. In alternativa, per vestiti e oggetti ancora più delicati, si può pensare al congelatore. Infatti si possono mettere questi oggetti in congelatore a meno 20 per 3 o 4 giorni e tra i meno 7 e i meno 20 gradi per più di una settimana. Mai avrei pensato di consigliare di mettere dei vestiti in un congelatore? Eppure così è la vita. Infine, materassi e altro mobilio trovato per strada non andrebbe portato in casa. A tutto ciò poi si unisce l'altro fronte e cioè fare in modo che la propria casa, in particolare la propria camera, sia resa abbastanza inospitale per questi animali. La regola fondamentale è ridurre il più possibile ogni nascondiglio, come fessure, crepe, insenature, preferendo oggetti lisci, tendenzialmente duri, in cui soprattutto le cimici fanno anche fatica ad arrampicarsi e che oltretutto sono anche più facili da pulire e eventualmente da ispezionare. Questo vale per esempio per il pavimento o le pareti, che più sono lisci e meglio è. Quindi è meglio evitare la carta da parati, oppure avere i mattoni a vista, oppure avere tappeti, la moquette, liscio è meglio. E quindi vale anche per il mobilio. Quindi per esempio se siete in una zona a rischio o percepite questo rischio, ecco che magari la sedia di vimini non è una cosa ottimale ed è molto meglio una sedia in plastica o in acciaio. Le stesse raccomandazioni si applicano soprattutto alle strutture dei letti, che l'ideale è che siano in metallo. Dopodiché il vantaggio di avere eventualmente il letto in metallo e liscio viene annullato se il materasso tocca il muro, perché ovviamente, capite no, cioè può salire per il muro la cimice, o se per caso le lenzuola o altre parti del letto toccano per terra. Il che per me è un casino, perché io di notte faccio la guerra con me stesso e cadono le cose. Nel dubbio allontanate il letto almeno 15 centimetri da qualsiasi cosa. Anche la scelta dei materassi può essere importante, le giunture possono essere usate come nascondiglio e quindi l'ideale è usare materassi senza giunture, quindi in gomma più ma in lattice. Viene anche consigliato l'uso di copri materassi, copri divano, ci sono anche quelli che proprio sigillano completamente il materasso e quelli sono utili se per caso magari avete comprato un materasso di seconda mano e quindi magari volete che se ci sono i cimici rimangano dentro, non riescono a bucare, non riescono a scappare, dopo un anno o più muoiono. D'altro canto ovviamente evitano che possano invadere il materasso e quindi poi sarà più facile trovarli in altri luoghi, in un'eventuale ispezione. Infatti esiste questa pratica comportamentale che è abbastanza importante, però qua ovviamente, come sempre, state attenti che non diventi un'ossessione. E cioè questa, no? Cioè imparare a provare ogni tanto in certi contesti a fare un'ispezione. Nelle linee guida non vengono date le indicazioni sulla frequenza e quindi sta a voi decidere sostanzialmente ogni quanto farlo a casa vostra e se farlo e quanto farlo quando si viaggia in alberghi o in case varie o volendo anche per esempio sui treni o sugli aerei in cui magari si dorme. Chiaro, questa valutazione dipende molto dalle informazioni pregresse che avete su quella zona, su quella situazione particolare. Va anche tenuto conto che soprattutto ci sono pochi esemplari soprattutto all'inizio. È veramente difficile riuscire a trovarli se non si è degli esperti e per questo alcune linee guida dicono di rivolgersi direttamente a delle dita di disinfestazione anche per le ispezioni. Tenete anche il conto che c'è la possibilità di ossessionarsi, di pensare di avere delle infestazioni a casa anche se non le si hanno, anche se degli esperti, dei professionisti sono venuti e hanno fatto la valutazione e hanno detto no, guardate che non avete le cimici dei letti. È una cosa che capita in quei casi ovviamente se avete questa propensione, se avete questa paura state attenti, vale il discorso iniziale. La parte psicologica è fondamentale, valutate anche di contattare degli esperti per questo. Quindi come si esegue un'ispezione? Anche qui ci sono dei concetti fondamentali e sono due. Da una parte bisogna capire quali tracce cercare e la seconda riguarda il come cercarle nei luoghi più probabili. Partiamo dal primo punto, di solito quello più comune, le macchie sulla pelle che però uno, avete capito, possono anche non venire a molte persone, due, possono anche essere causate da altro, no? Da altri insetti o da altri fenomeni che riguardano la nostra pelle per cui non sono specifiche. Può essere tranquillamente altro. Quindi si possono cercare altri segni come delle macchie scure che è sangue digerito, uova che sono particolarmente piccole e di color crema e poi ovviamente si possono trovare cimici vive o loro esoscheletri. In caso di infestazioni molto abbondanti si può anche sentire un odore dolciastro. Però questo è un caso un po' limite. Innanzitutto se state per fare un'ispezione e avete il sospetto che ci sono le cimici di letto ovviamente state attenti a non portare degli oggetti che a loro volta poi possono portare via le cimici da altre parti, no? Pensate anche ai vostri vestiti, alle vostre scarpe, in caso poi lavatele, eccetera, eccetera. Mi raccomando c'è questa cosa. Munitevi di una torcia, eventualmente anche di una scheda per passare, per esempio, sulle fessure e se volete anche una lente di ingrandimento. Partiamo dal principio che l'area in cui è più probabile vedere segni è quella compresa tra 3-6 metri dal luogo in cui si dorme o in cui ci si siede e che loro adorano gli anfratti. Più si fa in modo sistemico e meglio è, però ovviamente il tempo è limitato e nel dubbio partite sempre dai luoghi più probabili, cioè dal letto e poi via via ad andare oltre. Guardate quindi bene il materasso, soprattutto la parte vicino alla struttura del letto. Poi si può passare alla struttura del letto, tutti i luoghi appunto che possono essere anfratti, come per esempio le zone in cui ci sono i piedi, oppure in cui per esempio ci sono delle viti, oppure tutto quello che è anfrattoso. Ok, questa parola... Vabbè, avete capito. Chiaro, se la struttura è in legno ovviamente controllate anche eventuali crepe, da cui poi si passa alle strutture in cui si mettono i bagagli, di solito l'armadio o il ripostiglio e poi successivamente si può passare al pavimento, se c'è la mochetta, ai tappeti. Ecco, una cosa importante, sarebbe importante togliere ogni oggetto quando si fa l'ispezione al pavimento. E poi ovviamente si può passare a ispezionare altre parti della casa, come il mobilio, come i telecomandi, le televisioni. Un sistema un po' più passivo di ricerca delle cimici sono le trappole, che poi possono essere utili anche per altri motivi, per esempio monitorare la situazione se sapete di averle e anche per isolare alcune parti della casa. Andrebbero messe vicino sotto al letto nei posti in cui pensate di averle cimici, come i ripostigli e gli armadi. Ci sono vari tipi di trappole, queste per esempio sono le trappole intercettrici, che sono particolarmente comode perché possono essere messe per esempio nei piedi, per esempio i piedi del letto. Quindi se io ne ho quattro, ho i quattro piedi del letto che isolano praticamente il letto dal resto della casa, oltre al fatto che se ho le cimici prima o poi qualcuno ci finirà qui dentro. D'altro canto si può anche usare la colla, quella che a volte viene utilizzata per altri insetti, a volte anche per i topi o anche per esempio il nastro bioadesivo. Arriviamo al punto successivo. Ok, abbiamo scoperto di avere le cimici dei letti e ora? Tenete conto che è veramente difficile che le cimici dei letti se ne vadano via da sole, sono delle condizioni molto specifiche, per esempio un'assenza molto lunga di persone e per molto lunga si parla di un anno o anche di più se l'ambiente è particolarmente freddo. È quindi ovviamente necessario intervenire e una delle cose che potete fare è già mettere in pratica alcune delle cose che abbiamo detto prima, no? Rendete più in ospitale la vostra camera, la vostra casa per le cimici dei letti e così anche è più facile voi poi eventualmente fare le ispezioni oppure per chi se ne occupa. D'altro canto però attenti a una cosa, sul come agire purtroppo le varie linee guida nazionali e internazionali tendono a variare un po' i consigli però qualcosa anche qua di concreto e concorde si può dire. Per esempio l'ente britannico che si occupa delle disinfestazioni il Dipartimento della Salute della California e di New York sconsigliano il fai-da-te e consigliano quindi di trovare dei professionisti e i vari consigli che vengono dati sono al massimo qualcosa che va affiancato all'attività dei professionisti. In particolare viene sconsigliato l'uso fai-da-te degli insetticidi che va quindi lasciato a una ditta specializzata e per esempio anche l'ente francese ha un'idea abbastanza simile dite, guardate evitate il fai-da-te per i pesticidi se volete fare cose fai-da-te fate altro come appunto cose fisiche in particolare che riguardano il calore di cui vi parlo dopo. La motivazione riguarda soprattutto il rischio di intossicazione e di danni ambientali che si possano generare ma non solo c'è anche il rischio di contribuire all'aumento di resistenza delle cimici perché appunto le cimici evolvono come tutti gli animali e già è successo già sta succedendo che stanno sviluppando a mano a mano delle resistenze ai vari insetticidi in uso. Si discosta però l'EPA americana che dà uno strumento che dovrebbe aiutare a scegliere che tipo di insetticida può servire per le varie situazioni suggerendo di usare solo prodotti approvati. Tra parentesi nel Regno Unito in Francia e in USA esistono delle liste in cui ci sono le aziende che sono state approvate. In Italia una cosa del genere non l'abbiamo trovata almeno non c'è ancora sembra però in un articolo del Corriere della Sera in collaborazione con l'ASL di Milano si consiglia di contattare la propria ASL locale. Fortunatamente sui metodi non chimici c'è una forte concordanza. Le cimici e i letti sono molto sensibili al calore 189 gradi ma questo innalzamento di temperatura va fatto molto velocemente altrimenti c'è il problema che questi animali possano allontanarsi. Quindi il modo più pratico per applicare il calore è il vapore e ci sono gli strumenti che permettono di applicarlo a 120 gradi. È necessario posizionare l'ugello a contatto con l'oggetto che si vuole trattare e passare molto lentamente su questo oggetto. Si parla per davvero un riferimento di 30 centimetri ogni 10-15 secondi. Questo va fatto su tutti i materiali trattabili soprattutto il letto e il materasso ecco ovviamente attenti agli strumenti elettrici perché comunque rischiate l'acqua l'elettricità il grande vantaggio del vapore è che tende a uccidere tutto dalle uova agli individui adulti e ovviamente se trovate gli individui morti poi aspirateli. Ecco mi raccomando da solo il vapore non può essere considerato come l'unico intervento va affiancato ad altro. Se dovete prendere un oggetto per questo obiettivo assicuratevi che possa raggiungere temperature molto alte e che possa essere regolabile la pressione infatti deve esserci poca pressione altrimenti rischiate di sparare in giro cimici e uova invece di ucciderle. L'altro oggetto particolarmente utile è l'aspirapolvere che deve avere il filtro EPA altrimenti rischiate di mandare in giro le cimici una volta che le avete aspirate e d'altro canto va passato ovunque anche nei posti più reconditi della vostra camera. Il passaggio dell'aspirapolvere si può affiancare magari con una precedente pulizia sia dell'aspirapolvere per evitare che ci siano dei cimici sulla aspirapolvere sia eventualmente della casa una cosa preventiva e quindi può essere utile può essere utile aspirarne una buona fetta. Gli essiccanti e in particolare la polvere di diatomee viene spesso citata come un'alternativa soprattutto utile perché non permette alle cimici di sviluppare resistenze. Questa cosa non è totalmente vera negli anni si è visto un aumento di capacità di resistenza a questo tipo di cose soprattutto dovuto a un inspessimento della cuticola però si tratta comunque effettivamente di processi molto più lenti della resistenza agli insetticidi. Hanno l'aspetto negativo di avere un'azione più lenta col calore si fa molto prima ovviamente però anche qua le cose possono essere fatte in parallelo vanno messe per terra vicino al letto un po' come le trappole. L'azione che ha sugli insetti è di tipo fisico e tende a prosciugargli l'acqua. Ad ogni modo se volete usare questa strategia vendono delle polveri diatomei di questo tipo deve essere specificato che sia appunto ad uso insetticida altri tipi possono anche essere pericolosi dannosi per la salute umana qualcuno dirà vabbè ma io devo per caso buttare degli oggetti infestati come il materas e così via nella maggior parte dei casi non serve se riuscite a debellare la situazione ovviamente l'avete risolta e quindi state tranquilli non dovete buttare via tutto ecco se per caso invece per qualche motivo volete sentirvi più sicuri e buttarlo via ovviamente fate le cose a modo insacchettate bene le cose fate in modo che quella non sia una fonte di contagio per qualcun altro e qua direte ok ma nel caso dei morsi Giacomo che cosa devo fare la prima cosa a fare è evitate di grattarvi perché questo è il problema principale che potete avere perché grattandovi poteste esporvi ovviamente a piccole infezioni batteriche che sicuramente non sono belle l'aria va mantenuta pulita eventualmente per alleviare il prurito rossore potete pensare ad usare dei panni bagnati anche freschi anche con del ghiaccio non esistono medicinali specifici per i morsi dei cimici dei letti quello che si può fare la maggior parte dei casi è aspettare d'altro canto però ci sono delle linee guida come quella inglese che invece consiglia di andare a chiedere al farmacista delle creme steroidee deboli o degli antistaminici e poi se la situazione deve peggiorare o appunto non migliorare rivolgersi a dei medici nel dubbio comunque contattare il vostro medico di famiglia di base può essere una buona cosa con questo ovviamente speriamo di avervi aiutato abbiamo lavorato un sacco a questo video ci siamo letti un sacco di linee guida abbiamo cercato di sintetizzarle bene spero che vi sia utile anzi io spero che a qualcuno di voi aiuti se vi succede scrivetemi sono curioso anzi se scoprite avere un'infestazione di cimici e letti scrivetemi una mail magari vengo a casa vostra a fare dei video in cui ne parliamo vi le mostriamo mettiamo come è un'infestazione come si combatte sarà molto divertente detto questo vi ricordo che potete supportare questo progetto in vari modi anche probabilmente facendo delle donazioni trovate il link sotto in descrizione e mi permettete di crescere e fare questi video in cui ho anche dei collaboratori qui Mario ha dato una parte fondamentale nella scrittura di questo video e voglio farlo sempre di più dai ragazzi che stiamo aumentando sempre di più con questo vi saluto ciao a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti